Venerdì 3 maggio, Santi, Filippo e Giacomo Apostoli. È il 123esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 242 al termine. Il sole sorge alle 5.57 e tramonta le 20.19. La luna si leva alle 5.43 e tramonta le 18.39. Posata la prima pietra del Tempio del Redentore alla Giudecca a sceglimento del voto formulato dal doge Alvise Mocenigo I nel mese di settembre precedente. Il progetto è dell'architetto Andrea Palladio, assistito dal proto Antonio da Ponte. Le previsioni per domani. Persistono condizioni di spiccata instabilità con frequenti annuvolamenti e occasioni di piogge e rovesci a carattere sparso alternati a parziali schiarite. In serata un vortice colmo di aria molto fredda per il periodo potrebbe raggiungere il nord Italia provocando un ulteriore peggioramento con acquazzoni anche temporaleschi e un brusco calo delle temperature e della quota neve a partire dai settori alpini. Temperature in lieve calo marcato nella sera-notte. Venti in deciso rinforzo dalla sera. Mare da poco mosso a mosso.